Sono cambiate tante cose ad Harlem da allora. Ti basterà poco per riabituarti alla vecchia vita. Capisco che mi sono già riabituato. Lui e Bumpy Johnson sono una leggenda. Riporterò tutto come era prima. I tempi sono cambiati. Io non ho. Esce più in rovina da questi quattro palazzi popolari che da qualunque altra parte di Harlem. Quando mi hanno arrestato era diverso. Bloccare lo spazio è un obiettivo del movimento. Io ho le pistole. E io ho i miei soldati. Bumpy Johnson ci prende per il culo. Harlem ormai è una polveriera. Rischiamo di perdere troppe cose. Lei è un suprematista nero, io un suprematista bianco. Abbiamo più in comune di quanto creda. L'uomo nero è arrabbiato e il bianco ha paura. Se il movimento ricorre alla violenza siamo finiti. Dobbiamo combattere un sistema oppressivo con qualsiasi mezzo necessario. Ti ritroverai un bel problema da risolvere. Che cos'è una minacchia? Ogni uomo lascerà la sua eredità che lo voglia oppure no. Alla fine quale sarà la tua? Godfather of Harlem. Dal 23 febbraio in esclusiva su Disney Plus. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!